Ecco che mi trovo tra le montagne della Thailandia, nel nord, al confine con la mia mar. Ed ecco che finalmente, dopo ore e ore di cucito e l'arduo lavoro, la mia stanza è pronta. Customizzata, fatta su misura. E questa è la mia stanza, per le prossime due settimane.